Siracusa, carabinieri arrestano un 49enne brillo per resistenza pubblico ufficiale. Un goccetto di troppo in libro uscita violata suscita un piacere inedito, subliminale. E' così che un uomo è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Il 49enne alla vista dei militari è andato in sofferenza. Infatti, i carabinieri della sezione radiomobile del nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Siracusa, unitamente ai colleghi della stazione Siracusa principale nel corso di una specifica attività di controllo finalizzata al contenimento della diffusione del virus Covid-19, hanno tratto un arresto Andrzejysk Piotr, 49enne polacco disoccupato con precedente di polizia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'Andrzejysk, sorpreso per una piazza del centro città, seduto su una panchina pubblica senza alcun valido motivo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha cercato di opporsi alla sua identificazione dapprima, offendendoli verbalmente e poi cercando di allontanarsi a piedi. bloccato tempestivamente dagli stessi carabinieri, si è quindi scagliato contro uno di loro, strattonandolo energicamente e procurandogli escorazione dei chimosi multipli agli arti superiori. L'uomo è stato infine bloccato e riportato alla calma dai militari, quando non ha capito più niente lo hanno infine arrestato.